E buongiorno signori, io sono Mr. Lull e la manovra 2021 è blindata. Entro tre giorni infatti ci sarà l'approvazione definitiva da parte del Senato, ma sappiamo già praticamente tutto e vi assicuro che ci sono delle novità incredibili. Vediamo quindi assieme i provvedimenti più importanti in tema famiglia, bonus, lavoro, che tra pochissimo diventeranno operativi. Sigla, ma mi raccomando, lasciate un bel like per sostenere il canale e iscrivetevi per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. Partiamo! Capitolo famiglia, come non partire dall'assegno unico per i figli, confermato, anzi confermatissimo. Si parte da luglio ed è il primo vero passo verso il Family Act. Si allunga poi il congedo di paternità obbligatorio da 7 a 10 giorni, ma ci sarà anche un assegno da 500 euro per le madri sole con figli disabili almeno al 60%, purché disoccupate o monoreddito, e 5 milioni l'anno in più anche a sostegno dei caregiver. Altra novità assoluta in tema bonus è il bonus idrico da 1000 euro per interventi di sostituzione, sanitari, scarichi, rubinetteria, soffioni doccia con nuovi apparecchi più risparmiosi. Passa anche il bonus vista per l'acquisto di occhiali, lenti a contatto, un voucher da 50 euro erogato ai membri di nuclei familiari con un ISEE non superiore a 10.000 euro e sembra poi incredibile, ma il bonus smartphone o telefonino di cittadinanza è praticamente realtà. Quindi un telefono in comodato d'uso con internet gratis per un anno per quelle famiglie con ISEE sotto 20.000 euro. Nel pacchetto saranno compresi anche gli abbonamenti a due organi di stampa e la app Io. E per chi sosteneva che fosse una bufala... Capitolo lavoro confermata la proroga della CIG emergenziale con altre 12 settimane, come anche l'esonero contributivo per quei datori di lavoro privati che non vadano a richiedere trattamenti di cassa e blocco dei licenziamenti fino a marzo. Confermatissima anche la nascita di Iscro, la CIG per le partite IVA, autonomi e professionisti, colpiti duramente dalla crisi in via sperimentale fino al 2023 da 250 a 800 euro per sei mesi. Sgravi a pioggia anche per chi assume a tempo indeterminato per le trasformazioni dei contratti a termine di giovani fino a 35 anni, con la conferma anche del bonus sud fino al 2029. 100% anche qui di sgravio contributivo per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel biennio 2021-2022 entro un limite di spesa di 6.000 euro annui. Qui poi dedicherò insomma uno speciale per tutti i bonus assunzione 2021. Taglio alcuno fiscale anche per i lavoratori dipendenti con redditi tra 28 e 40.000 euro, che era in scadenza a fine anno, antipasto di quella riforma dell'IRPEF che forse arriverà nel 2022. Insomma, tante tante novità e alcune conferme che sinceramente non mi sarei aspettato. Nelle prossime settimane avremo anche ancora più informazioni e soprattutto i decreti attuativi di alcuni dei nuovi bonus. Quindi iscrivetevi, mi raccomando, per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Detto questo, io come al solito vi saluto, vi ringrazio, lasciate un bel like e ci vediamo al prossimo video, alla prossima live. Un saluto a tutti da MrLul.